Come ti chiami? Roberta. Soprannone. Mai la gioia. Professione. Studentessa. Tre aggettivi per definirti? Determinata, sincera e permalosa. Il tuo fondamentale più forte è quello più debole? Il muro e quello più debole è la difesa. Se vincessi 10 milioni di euro cosa compreresti come prima cosa? Un cavallo per l'Elisa. Una cosa che ti rende felice? Mangiare. La prima cosa che fai al mattino? Scrive un messaggio all'Elisa. L'ultima cosa che fai la sera? Vado a dormire. Cantami la tua canzone preferita o dici il titolo? Elisa cuore cavalli. Piatto preferito? Pizza. Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani in casa? Pensare all'Elisa. Fammi un urlo. Ti piacciono gli animali? Sì. Da 1 a 10 quanto contano per te le tue compagnie di squadra? 10. Amici? 10. Soldi? 10. Elena Morelli? 0. Salute ai tuoi fans. Ciao. Ciao.